Il percorso Operation Excellence Industriale si occupa di tutti quei temi che sono legati al raggiungimento dell'efficienza operativa dei processi produttivi. Tra questi possiamo pensare a tutte quelle tecniche, i principi tipici della lean production, tutto quello che riguarda appunto l'eccellenza dal punto di vista della qualità, dell'efficacia e tutto quello che concerne in generale i sistemi produttivi. Questo percorso è un percorso molto esperienziale quindi ha una forte connotazione di praticità. Accanto ovviamente alle classiche lezioni teoriche e esercitazioni in aula si aggiungono una serie di esercitazioni pratiche nei fab per esempio quindi la nostra fabbrica modello che in questo caso viene usata come palestra vera e propria in cui andare ad applicare i concetti che si sono appresi durante le lezioni teoriche e c'è già molto contatto con le imprese. Quindi si susseguiranno alcuni interventi da parte di azienda ma anche visite della classe allo stabilimento quindi finalizzata ovviamente a rispondere a dei quesiti e gli studenti inizieranno appunto interagire a osservare il sistema produttivo e a coglierne appunto quegli elementi di eccellenza proprio per raggiungere completamente la conoscenza dell'eccellenza operativa. Da ultimo sono moltissimi i tirocini che vengono attivati proprio con questi temi quindi moltissime aziende sono interessate a approfondire a portare al proprio interno queste tecniche e questi concetti di eccellenza operativa e molto spesso si rivolgono appunto a noi per farlo insieme agli studenti quindi questo è sicuramente un indicatore di quanto interessante è sul mondo del lavoro oggi questo tipo di tematiche.